Siamo in compagnia di Andrea Nicolai, coach impectore della Fiorentina Basket Firenze, oggi il derby, ancora una volta visto dagli spalti, ma al di là di questo, come ha visto la sua squadra oggi, soprattutto dal terzo periodo in poi? Sì, ma intanto stare in tribuna è una sofferenza enorme, un handicap importante, spero che finisca presto questa anomalia perché è veramente difficile guidare la squadra. Ai ragazzi avevo detto che per cercare di competere in questa partita che per noi era molto dura, bisognava pareggiare e imitare, in qualche modo essere ispirati dal senso di appartenenza, dalla voglia, dall'attaccamento alla maglia che i ragazzi del Pino, che la squadra del Pino riesce a avere in campo. Quello era l'unico modo per essere competitivi. Penso di essere riuscito a trasmettere questi ragazzi che hanno giocato una partita veramente di grande impegno, di grande attenzione e la soddisfazione enorme perché il Pino con l'innesto di Urugola è una squadra sicuramente molto competitiva nel campionato, lo dimostra la vittoria a San Mignato. Credo che devo ringraziare i ragazzi perché davvero sinceramente i carichi di lavoro, sia mentali che fisici, che facciamo sono importanti e sono molto impegnativi. Però quando poi arrivano questi risultati credo che anche tanti sacrifici fatti siano capiti e siano ancora più apprezzati. Oggi era assente Longobardi che sfortunatamente sarà assente per un lungo periodo, però ogni volta questa Fiorentina Basket sembra che trovi protagonisti diversi nei momenti più importanti della partita. Prima Poltroneri, poi Motta, anche lo stesso Valentini ha fatto un lavoro oscuro e ha fatto canestri importanti e sta entrando in forma adesso. Sì, devo dire che Longobardi ha avuto un problema alla caviglia importante e starà fuori per diverso tempo. Poi avevamo anche Bloise che non si è mai allenato tutta la settimana e ha fatto una partita di grande abnegazione, di grande spirito nonostante le energie fossero relative. Colgo l'occasione per ringraziare il nostro staff medico fisioterapico che è veramente di altissimo livello. Io ho girato tante squadre anche dal giocatore ma raramente ho trovato un'attenzione, una precisione e una competenza del genere. Quindi ringrazio Massimo Gianfortuna, il suo centro, perché veramente il recupero di Jacopo Valentini che è molto complicato, ancora non è finito ma veramente era difficile e stiamo forse uscendo dal tunnel. Il recupero di Bloise, il recupero degli infortuni di Rosignoli, insomma credo che sia un valore aggiunto importante. Li ringrazio e questa cosa sia ancora più a valore la nostra partita che in condizioni problematiche, difficoltà, siamo riusciti a tirar fuori una partita importante. Grazie.